Vittoria meritatissima contro una grande squadra, il miglior Val di Fiori della stagione. Non è un fatto casuale questo, secondo me. Ti ringrazio, è importante che la squadra abbia trovato questa vittoria, perché dal primo minuto si è visto che la voleva a tutti i costi, nonostante quel pareggio del 2-2 che magari con un uomo in più ci poteva dare il contraccolpo psicologico, però abbiamo avuto la forza di spingere ancora e di trovare una vittoria che penso, per quello che si è visto in campo, meritata anche per come siamo partiti. Anche il secondo tempo ci siamo detti nello spogliatoio che era una partita che dovevamo cercare di fare nostra, perché anche dal campo avevamo la sensazione di fare le cose giuste, le cose che ci aveva chiesto l'allenatore e poi abbiamo proseguito su quello spirito di squadra che ci sta un po' contraddistinguendo in queste partite e dobbiamo continuare così, perché la strada è ancora lunga per uscire da questo momento e da questa classifica. Mirko, buonasera. Poco fa Bocchetti ha detto che nell'ultima partita c'è stato questo sblocco mentale, legato anche, immagino, al cambio di allenatore. È effettivamente così? Vi sentite mentalmente più liberi? Quando c'è un cambio di allenatore, magari indirettamente anche i giocatori, giustamente come ho sempre detto, sono responsabili perché siamo noi che andiamo in campo. Ci siamo reso conto che la classifica era difficile e ci siamo compattati da squadra, uno per l'altro, anche quelli che entrano in queste partite con i cinque cambi si stanno rivelando molto importanti. e stiamo seguendo appunto quello che ci sta chiedendo l'allenatore. Poi è una squadra che secondo me che se trovi risultati riesce a scendere fuori da quella classifica, può esprimere anche un gioco ancora migliore. Anche in questo momento quando vivi appunto questa classifica, a volte sei un po' meno bello, ma sei efficace e quello che conta appunto adesso è fare i punti e continuare appunto, ripeto, su questa strada perché dobbiamo mantenere l'equilibrio giusto senza pensare che ne siamo fuori perché siamo ancora lì, però queste vittorie ci devono dare fiducia e autostima. Ecco, volevo farti una domanda Mirko. Sul 2-1 la squadra si è abbassata, no? C'è stato poi il pareggio di Bettella e avete trovato la forza di vincerla all'ultimo minuto. Ecco, si è abbassata, la domanda è proprio questa, si è abbassata anche per un problema, diciamo, di natura fisica? Beh, io penso che si è abbassata, magari complice un po' il momento, come ho detto prima. Sappiamo che per noi è un momento delicato, quanto sono importanti i punti in questa fase delicata di dicembre, quindi quando non vinci da tanto, quando giochi contro una squadra, che non ci dimentichiamo, che è una delle corazzate della Serie B che ti può mettere in difficoltà anche in dieci. La cosa bella, come ho detto, è che siamo riusciti a ribaltarla e trovare la forza per vincere. Poi è ovvio che col passare del tempo, anche già da domani, cercheremo di lavorare per gestire, appunto, se dovesse ricapitare, di giocare un pezzo di partita con un uomo in più, di cercare di gestire un po' meglio il risultato. Mirko, ciao, sono Giovanni Tontonati. Una domanda, Mirko, hai parlato del cambio di allenatore della scossa, ma su cosa è stato bravo, breda, secondo te, visto che la media punti del Pescara è quantomeno da play-off con la nuova gestione, no? Credo sette in quattro partiti. Il mister penso che ha trovato una squadra che non era tanto convinta dei propri mezzi, complice tante cose, senza dar la colpa a nessuno, però la squadra era un po' sfiduciata. Il mister ci ha fatto credere in noi, ci ha compattato, ci ha fatto capire che magari è un Pescara che ha delle buone qualità, ma prima delle qualità ci vuole un gioco di squadra. Se sei squadra, poi dopo vengono esaltate anche le qualità dei singoli. Quindi è su questo che ci ha trasmesso appunto questa sorta di tranquillità, tra virgolette, ma anche fiducia in noi stessi. E poi quando vai in campo e vedi che magari tutti si lotta, tutti andiamo verso la stessa direzione, è anche un input in più, anche per, come ho detto prima, chi entra dalla panchina a fare bene. E tutti stiamo sul pezzo, perché soprattutto in questa maria, giocando ogni tre giorni, c'è bisogno di tutti. Quindi un grande gruppo è quello che se fai cinque minuti, fai quattro partite, fai una partita, tutti dobbiamo cercare di seguire quello che ci chiede l'allenatore. Un'altra, se posso, ragazzi, sui gol subiti, sui sviluppi di palle inattive. Mirko è un po' un cruccio questo, no? Oggi altri due. Dobbiamo lavorarci, dobbiamo lavorarci, dobbiamo cercare, come dice il mister Bredo, soluzioni. Oggi siamo stati meno bravi, meno attenti rispetto a altre volte. Dobbiamo cercare di lavorare, perché magari quando concedi poco a livello di gioco alle squadre avversarie, poi magari comprometti delle partite su un calcio piazzato, soprattutto anche perché noi siamo una squadra, secondo me, abbastanza dietro i due steni in centrocampo, lo stesso setterno, una squadra strutturata, quindi dobbiamo cercare appunto di lavorare meglio su queste cose per non compromettere dei risultati che sul campo, oggi penso che il Pescara abbia meritato molto questo vittorio. Ecco, Mirko, il calcio anche più essenziale, più verticale, la ricerca di un giocatore come S.P.R. è fondamentale e lui sta dando comunque molto, sta diventando un giocatore essenziale per i vostri meccanismi. È un gioco più verticale, è stato quello che ha già chiesto a Mirce il Bredo da quando è arrivato. Anche a me piace questo gioco, come ho sempre detto dal primo giorno, perché è quello che mi ha accontrato distinto un po' anche nelle mie stagioni migliori in passato e quindi sì, è un gioco che la squadra deve stare compatta, poi la fortuna di avere Setter, lo stesso Galano, che adesso speriamo non abbia niente di grave, perché per noi è un giocatore straimportante, lo stesso Maestro, ti permettono questi giocatori appunto di gamba di ripartire anche quando magari le squadre come il Monza che tra virgolette vengono qua a cercare di fare la partita, ti chiudi, stai compatto e hai la possibilità di ripartire. Senti, io ti faccio l'ultima domanda, perché hai eluso elegantemente, perché secondo me è stato il miglior Val di Fiori della stagione, il vero Val di Fiori, perché? Ma guarda adesso io, Val di Fiori, cerco sempre di lavorare al massimo per il bene della squadra, oggi sicuramente rispetto ad altre partite avevo più libertà d'azione, quindi magari anch'io in quelle partite che magari come è successo a Pisa, che magari ricevi il trequartista sempre addosso, oppure come è successo a Ascoli, che si è un po' più marcato da uomo, devo cercare o di smarcarmi di più o cercare con l'aiuto dei compagni di poter avere la possibilità di giocare i palloni come ho avuto oggi. Oggi ho avuto più possibilità di lanciare, mi sono divertito di più anch'io, però sai, a volte anche le altre squadre preparano le partite, ti marcono, quindi bisogna cercare di trovare la soluzione per riproporre una buona partita al servizio della squadra.